Continua a dare i frutti il pattugliamento del territorio Nebroideo operato incessantemente dai carabinieri del comando provinciale di Messina e dò lo squadrone li portato a Cacciatori Calabria all'indomani dei fatti di cui è stato vittima il presidente dell'ente Parco De Nebrodi. Dopo l'arresto di due giovani incensurati sorpresi a dirigare i primi di luglio le numerose piante di canape indiana che avevano messo a dimora in un terreno di contrata scaletta del comune di Cesaro, a finire in manette è stato questa volta un quarantenne agricoltore salvo Germana, residente a Maniace, sorpreso a coltivare circa 500 piante di canape indiana incontrata a Couto del comune di Cesaro. Nella sera del 12 luglio il Germana è stato sorpreso dai carabinieri della compagnia di Santo Stefano di Camastra e dai cacciatori di Calabria mentre si prendeva cura della piantagione che è composta da arbusti alti fino a circa due metri era stata realizzata in maniera tale da essere mimetizzata nella fitta vegetazione circostante invisibile all'occhio dei comuni cittadini. Ciò tuttavia non è bastato ad ostacolare i militari che dopo aver individuato l'area, averla circondata, hanno proceduto all'arresto dell'utilizzatore e poi tradotto alla casa circondariale di Catania e Piazza Lanza come disposto dalla propura della Repubblica presso il Tribunale di Catania. Le piante sono state estirpate e inviate al RIS di Messina.